Ciao a tutti, mi chiamo Niemet Sjomiswa, sono corridore della Lampre Merida. Oggi il nostro team vi dà qualche consiglio per come usare le borse Chikon. La prima, più importante, ricordatevi di mettere sempre il lucchetto prima che partite. L'importante è di chiudere sempre la valigia. Questa fa la protezione ai tubi, qua fa la protezione al manovrio e questo è un po' di protezione alla sella. Come vi ho detto prima, questo adiere la borsa alla bici, così è più protetta al viaggio. Un altro punto fondamentale per affrontare il viaggio è posizionare la catena sul tibar. Sembra una cosa non del tutto fondamentale, invece è molto importante per la sicurezza sia del cambio che della bici. Il protege i cambi, usatelo perché è una sicurezza molto importante per il vostro cambio. Controllate la bici all'aeroporto. MagSafe, ride fast. Bici all'anima. Buon appetito. Grazie a tutti.